Sono qua in compagnia dei Fujiama, il gruppo che si è esibito questa sera proponendoci una cover di Kelly Rowland, ma soprattutto una loro canzone molto bella, che è quella che sentite in questo video. Quindi come si intitola questa bella canzone dance? Lady Bugs. Bene, e la gente pur non conoscendovi ancora, perché voi siete qui in anteprima assoluta, più anteprima di Così si muore, a ballare, io le ho visti ballare. Infatti ci fa piacere un po' la nostra conquista, fare qualcosa che piaccia alla gente, che riesca a coinvolgere tutti. Allora, non ci ho ancora pensato, ma presentatevi al nostro pubblico. Partiamo da lei, che è la bellissima ballerina. Tu come ti chiami? Giulia. Bene, e tu? Emanuele. Roberto. E io teo. Bene, allora, loro sono i Fujiama e presto si potrà scaricare anche la loro canzone tramite iTunes, per cui stay tuned.